Ciao, sono Simone Brancozzi, sono un revisore contabile, sono un consulente aziendale e sono l'ideatore del Cuscotto di Controllo. Oggi parleremo del margine di contribuzione delle aziende commerciali, cioè di quelle che comprano e rivenno sostanzialmente. Il margine di contribuzione è l'origine dell'equilibrio economico, cioè un'azienda che non ha un margine di contribuzione positivo è un'azienda che rimette. Moltissime aziende, moltissimi imprenditori si trovano in difficoltà finanziaria per un semplice motivo, perché non guadagnano e si dimenticano che l'obiettivo principale di un'impresa è produrre reddito e la molecola principale, cioè la cellula fondamentale dell'equilibrio economico è il margine di contribuzione. Quindi un buon professionista quando va in azienda la prima cosa che deve fare è domandare qual è il margine di contribuzione che avete fatto oggi o ieri e se in azienda poi viene fuori che loro non riescono a calcolare le immagini di contribuzione, bisogna fermarsi lì e iniziare a fare la consulenza su come misurare le immagini di contribuzione. Se non si riesce a misurare le immagini di contribuzione bisogna dargli un consiglio, è meglio che chiudete perché fate meno danno. Sul margine di contribuzione per il commercio è abbastanza semplice perché basta semplicemente togliere ai ricavi giornalieri il costo di acquisto della merce che si è rivenduta, cioè se ho venduto 3 palline da tennis che ho pagato 2 euro quindi 6 euro il costo e le ho rivendute a 5 euro quindi ho incassato 15 e le ho pagate 6 è chiaro che il margine di contribuzione è 9, è semplice. Il problema qual è? Che molte attività commerciali non hanno l'IRP cioè non hanno il gestionale che traccia il costo di quel prodotto che hanno venduto, quindi a fine serata hanno il dato dei ricavi ma non hanno il dato di quanto hanno pagato quel costo che hanno venduto. Quindi nel caso in cui si disponesse di un'IRP quindi quando digito sul registratore di caso faccio la fattura il gestionale già sa quanto ho pagato la merce che ho rivenduto diventa semplice calcolare immagini di contribuzione, basta fare il ricavo meno quello che mi ha costato la roba che ho venduto. Attenzione il costo, posso fare anche dei ragionamenti, lo posso calcolare o come costo di quello che avevo pagato, il costo di acquisto, oppure posso considerare il costo ponderato perché magari vendo dei prodotti che oscillano, oggi vale 2, domani vale 3, quindi se lo devo ricomprare magari non è lo stesso, quindi posso prendere la serie storica dei costi di acquisto e quindi calcolare un margine medio, cioè col costo ponderato. Oppure addirittura posso fare col costo di riacquisto, ho venduto una pallina a tennis e ho pagato 2 ma siccome domani la ricomprerò 3, quindi posso fare una serie di ragionamenti. L'importante è che questo criterio sia omogeneo, cioè sia costante. Però qui è semplice perché noi abbiamo ad esempio 1000 di ricavi, 800 di costo, margine meno 10 di provvigioni eventuali, magari forse un grossista, quindi abbiamo 1000 meno 800 meno 10 di provvigioni, 50 di costo di trasporto perché il costo di trasporto è diretto, ecco i costi diretti sono quelli che noi sosteniamo soltanto se vendiamo, i costi fissi sono quelli che noi sosteniamo comunque, quindi abbiamo un totale di 800 meno 10 e meno 50, quindi sono 8,60, 1000 di ricavo, noi abbiamo un margine di contribuzione di 140, 140 deve essere un importo superiore ai costi fissi che noi abbiamo sostenuto in questo giorno. Se noi abbiamo sostenuto dei costi fissi perché basta fare il costo fisso giornaliero, dividerlo per le aperture del negozio o dell'attività e tu hai un costo fisso medio giornaliero, supponendo che il costo fisso sia 160 oggi hai fatto poco margine, o perché hai venduto poco oppure perché magari hai venduto dei prodotti che immaginano troppo poco. Ora il problema è non ho la possibilità di identificare il costo di acquisto, quindi non ho un gestionare, non ho un ERP che mi consente di avere questo costo di acquisto. Cosa faccio? Uso il vecchio metodo dei costi ricavi e rimanenze, ma poi lì si pone il problema di quantificare le rimanenze ogni volta che voglio misurare immagini di contribuzione. Voi immaginate un magazzino enorme, se non c'è la computerizzazione del magazzino diventa impossibile calcolare le rimanenze, però ve lo dico perché così almeno lo capite. Allora supponendo che ci siano ricavi 100, calcoliamo il costo del venduto. Come si fa a calcolare il costo del venduto? Si fa il carico meno lo scarico, quindi sommo gli acquisti, sommo le rimanenze iniziali, ovviamente utilizzando lo stesso criterio di valutazione degli acquisti, quindi se gli acquisti li valutano al costo di acquisto, le rimanenze vanno valutate al costo di acquisto. Se valuto gli acquisti al costo medio ponderato, li devo valutare in rimanenze al costo medio ponderato. Tolgo le rimanenze che mi ritrovo sempre con lo stesso criterio, quindi supponendo che io abbia avuto mille di acquisti più 100 di rimanenze iniziali meno 120, io ottengo 980. Qui magari se ci facessimo un più sarebbe meglio, scusate, ma ecco qua. Ecco qui, quindi sommiamo gli acquisti, le rimanenze iniziali, questo è il carico di magazzino, quindi nel magazzino entra gli acquisti che si sommano le rimanenze che c'erano, quindi il magazzino è stato di 110, ma a fine periodo le rimanenze sono state 120, significa che del carico che è 110 ne è rimasto solo 980, cioè significa che dal magazzino sono usciti 980 che hanno generato 1.013 ricavi, quindi questi 1.013 ricavi sono stati creati da 980 di costo, e quindi si crea un margine di contribuzione di 320, questo potrebbe essere giornaliero, potrebbe essere mensile, e i costi fissi ipotizzando che siano 250 giornalieri significa che noi abbiamo guadagnato 70, cioè noi andiamo a casa sapendo se abbiamo guadagnato e abbiamo rimesso, e abbiamo tutta una serie di informazioni, quindi abbiamo venduto poco, parta tutta l'informazione al processo delle vendite, come faccio a vendere di più, abbiamo venduto con un mix prodotti troppo basso, bisogna introdurre nuovi prodotti che magari immaginano di più, capite che se uno lo controlla lo migliora, ma se non lo controlli non lo puoi migliorare, proprio come diceva Norton e come diceva anche Kaplan per la banana scorchato, cioè se qualsiasi cosa tu controlli la puoi migliorare, quindi ricordatevi il commercio, due opzioni, costi, ricavi e rimanenze se non riuscite a tracciare il costo, ma attettanto se non riuscite a calcolare le rimanenze finali perché il magazzino è troppo grande, usate l'altro e se siete in difficoltà bisogna strutturarsi, cioè non si può dire non ce la faccio, bisogna strutturarsi, ci vuole un gestionale e torniamo all'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile che il 2086 impone agli imprenditori, quindi avere un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile significa assolutamente come primo tassello poter calcolare il margine di contribuzione. Un caro saluto! Grazie! 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 Grazie!